Adoro, voglio assolutamente farlo anch'io. Ho comprato infatti questo puzzle di Flying Tiger. Come disegno pensavo di fare qualcosa di simile a quello che ha fatto la ragazza. Solo che al posto dei pennarelli andrò ad utilizzare le tempere perché queste ho. Inizio facendo qualche macchia di colore qua e là. Ovviamente come vi dico sempre io non so disegnare. Quindi quello che viene, viene. Ho asciugato tutto con il phon e adesso passiamo allo step 2. Vado a fare un po' di disegnini qua e là. Faccio le foglie come l'ha fatta lei, qualche fiorellino, un pianeta con una specie di alieno per ricordarci del vecchio sfondo. Ovviamente ricordati di seguirmi. E il risultato è stato più o meno questo. Secondo voi è promosso o bocciato?